Evidentemente ci sono poi altri requisiti che vanno considerati. Io ci tengo a dire che questa amministrazione non sta favorendo i Rom. Questa amministrazione è quella che ha buttato giù le casette di Casa Monica dopo 30 anni in cui nessuno interveniva, se vogliamo farne un discorso di etnie. Quindi non stiamo facendo favoriti. Ci sono diverse idee. Ci sono quelli che vorrebbero riportarci a 80 anni fa e quindi creare i ghetti perché i campi Rom sono questo, sono addirittura divisi per etnie all'interno dei campi Rom. C'è chi vorrebbe dargli assistenzialismo allo Stato puro per il semplice fatto che non sono nati in Italia. Noi stiamo portando avanti la terza via. Diritti per chi ne ha linea dura con chi merita di essere puniti.